Un'intera giornata dedicata alla sicurezza stradale, non a caso in un tratto della 71 che negli ultimi tempi è stato teatro di drammatici incidenti, anche mortali. Usa la testa per non perdere la vita è lo slogan creato per l'iniziativa organizzata da Arezzo Motori, Proloco e Federazione Motociclistica Italiana che si svolgerà sabato 30 settembre a Castelnuovo, nell'ex campo sportivo e nel piazzale di Marino Famercato. C'è un circuito per bambini da 6 a 14 anni che inizieranno con le moto nel circuito per iniziare proprio l'educazione stradale prendendoli da piccoli. Poi lì vicino c'è un altro circuito con i cocarti, doppio cocarti, che c'è il pilota e il passeggero che mette degli occhiali per capire quando si può viaggiare o no, se uno, tanto parliamoci chiaro, è obbriaco o non è obbriaco. Poi ci sarà lì sopra al campo sportivo l'esercitazione vera e propria dei due incidenti. Un incidente stradale che riguarda due macchine che si fanno frontale e un altro con un trattore che si ribalta, perché abbiamo pensato anche a chi va a fare questi lavori nei campi e che deve essere in sicurezza con lì in mezzo. E lì ci sono i vigili del fuoco che faranno tutto di più per salvare queste persone. Dopodiché la giornata continua tornando a parlare sempre di giorni piazzali del circuito e altro, soprattutto in quanto riguarda l'alcol, queste cose sono le più importanti per questa giornata. E poi chiudiamo con questo che ricordiamo che in queste strade si muore continuamente. E nel penultimo ci sarà anche il padrone della polizia che verificerà la famigerata 71.